...looping, e si, un tonno a botte, praticamente l'aereo fa un giro completo a 360 gradi intorno all'asse, ma attenzione alla vostra destra, sinistra, stanno arrivando gli Iacche, uno, quello più in alto ha fatto un mezzo tonno e si è messo in posizione a specchio, questa è la manovra rispetto al velivolo sottostante, mentre Mariani ruota intorno a destra, questa manovra viene chiamata la Siberiana, che ha contato una leggenda che dei piloti americani fecero una scommessa con una filotessa russa, la quale diceva che avrebbe volato intorno a loro e non l'avrebbero mai vista, in questa occasione, ma solo per questa occasione, Mariani si è trasformato in pilotessa. Signore, un grandissimo applauso alla Iacche Italia per questa bellissima...